... Comandante, buonasera. Cappello, sciarpa. Sciarpa, cappello e capotto. Fa freddo. D'inverno lasciamo il timone e ci dedichiamo a passioni più esplicite. È quasi pronto. Vengo ancora però gli attrezzi. È una visione artistica questa, il fatto di averla sempre incompleta. Ci sta sempre qualcosa a fare, che ci manca. Ci manca sempre qualcosa. Mi sembra di riconoscere degli angoletti sorrentini, però non saprei dirti quali. Mi piace il colore di questa pietra perché è il nostro tufo che teniamo in testa. L'ho lasciato la tenda, vedi? Ho fatto la copertura, l'ho lasciato lì. Ecco. I turisti vengono, vogliono sapere come andate. Vogliono sapere e mettono pure qualcosa. Ah, lasciano anche l'offertina. Abbiamo bisogno di soldi per la Madonna. Abbiamo restaurato la chiesa. Infatti, infatti. È rinata questa chiesa. Abbiamo messo a posto pure l'orgono. Stai in procinta di mettere... Tutto, tutto, già fatto. Ci mancano solo i pregi. Il vostro da fare in questo... Solo i pregi ci mancano. No, diciamo perché sennò il vescovo si figlia collo. No, no, io nemmeno usavo però. Giusto per rimanere in famiglia, no? Con questa pesca... Ah, questo era i cantieri di Tramontano. Questa fa sempre caso, si parla del locale. Sì, sì, bellissimo. Niente di meno. Ah, sì, sì, i pigliano, i due pesciolini che si muovono nel laghetto. Dieci. Bellissimo. Devi essere così gentili e pazientiose che sta panchina li ha lasciati a casa che quando vengono i bambini... Io ci faccio una pedale. Ah, viene proprio una pedale. Sì, perché è troppo alto per i bambini. E senti, qualche cosa lo tenevi già prontato dell'anno scuro? Niente. Niente, l'onore, l'interno ci si... Mentre invece poi ti sei reinventato tutta la impostazione. Mi piacciono che sta sede di monazzeri, il Cristo che nasce nei monazzeri. E giustamente siamo giù alla marina, marina piccola di Sorrenda e come tale non poteva essere diversamente. Un angoletto, gli spazi ridotti, risicati e rubacchiati al mare, alle onde del mare di tipo invernale. I nostri auguri e i nostri complimenti.